Conoscere che l'autista è il volante della macchina che ha invaso la corsia. L'assessore ai servizi educativi del comune di Fano, Samuele Mascarin, insieme alla dirigente Mosciatti, ha visitato questa mattina l'istituto comprensivo Fadi Bruno, Di Marotta e gli studenti coinvolti ieri pomeriggio in un incidente che ha visto un'auto urtare frontalmente lo scuolabus che li accompagnava. Probabilmente si è trattato di un malore da parte dell'autista che ha invaso la corsia su cui viaggiava lo scuolabus a produrre l'incidente di ieri nel primo pomeriggio. Questa mattina insieme alla dirigente dei servizi educativi Grazia Mosciatti ho voluto incontrare la dirigente, la dottoressa Silvia Faggi dell'istituto comprensivo Fadi Bruno per verificare con lei non solo quello che è successo ma anche i prossimi passaggi, compreso quello che vedranno gli uffici del comune di Fano contattare le famiglie delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e dei ragazzi coinvolti nell'incidente per verificare anche quelli che sono i passaggi relativi alla copertura dei sinistri che si sono registrati perché comunque ci sono sette ragazzi che sono ricorsi al controllo in pronto soccorso e ci sono anche una serie di referti lievi ma comunque ci sono e quindi vogliamo assolutamente essere vicini anche alle famiglie nell'accompagnarli in questo percorso e poi abbiamo voluto incontrare proprio i ragazzi, le ragazze che ieri sono state coinvolti nell'incidente per sapere da loro insomma direttamente le dinamiche dell'episodio, capire come l'hanno vissuto, come stavano anche loro non solo dal punto di vista fisico ma anche come hanno vissuto questa brutta esperienza e abbiamo voluto anche a nome del sindaco Massimo Seri tranquillizzarli sulla presenza e la vicinanza del comune di Fano in questo momento e ovviamente nei prossimi giorni per quanto riguarderà invece gli aspetti diciamo di copertura assicurativa per gli infortuni Per i piccoli alunni quindi l'autista è diventato il loro eroe, li ha rassicurati avvertendoli del pericolo imminente in modo da farli preparare all'urto e tentato tutto il possibile per evitare lo scontro frontale spostandosi tutto a destra ma l'auto ormai aveva completamente invaso la sua corsia lui per le conseguenze ha riportato una prognosi di sette giorni mentre gli alunni sono tutti rientrati a scuola anche se per quattro di loro è stato necessario ricorrere a un collare Grazie